Siamo a Chen Chung Il difficilissimo gioco di abilità è stata una concentrazione della giocatrice Il scopo del gioco è quello di far passare questa pesante pallina in ceramica all'interno di quel sofisticato congegno costituito da un fil di ferro Ligato a U Notata è la concentrazione di giocatori L'abilità, ecco Sperrato un colpo, direi micidiale L'attacco La tensione sale Un altro colpo fallito Attenzione, guardate la posizione La signora è la campionessa mondiale di questo gioco di cui le origini si perdono nella remota Cina Gagliau Adesso proviamo Mauro Proviamo Allora, buttate dentro Una bella Allora, adesso buttiamo dentro Allora, vedi che hanno anche un verso rimasto Però Hanno un verso Sì, vedi che ha la frezza lì Che pesante Hong Kong Abbiamo scoperto il nome del gioco Il gioco si chiama Gate Ball Gate Ball Esatto Vuol dire cancello, palla Ah già Esatto Però chiediamo alla signora se ci consente due tiri Io direi che It's Walls Forse siamo all'altezza io voglio provare è entrato ora che ti accolpi è veramente difficile complicato non è gol! non è golfe! non è golfe, Walter! non è golfe! oh 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 come on fai ti fai ti! ok adesso provo stila così, sta registrando vai 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 par facile eh, bene ci vuole concentrazione Wow, non c'è il gioco. Aspetta, aspetta Mauro, aspetta, fermo, fermo. Non è stato facile, è un gioco vero. Non è stato facile, è un gioco che dal punto di vista fisico e tecnico richiede concentrazione e preparazione. Anni, anni, anni di allenamento. Ad ogni modo, da Chung Chung è tutto, Mauro Scarpa e Walter, a voi studio.